Ma lo Stato io credo debba costruire un contesto favorevole, positivo, noi abbiamo cercato di farlo con una legge che favorisce l'uelfare aziendale sgravandolo del peso fiscale, ma io credo che bisogna fare anche di più, bisogna cercare di fare integrazione fra quelli che sono i servizi essenziali che deve continuare a garantire lo Stato e quello che invece giustamente possono fare imprese e associazioni come il Confartigianato che pensano a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei loro associati. Quindi io credo che il punto vero è quello di una collaborazione, di una integrazione, di una disponibilità ad essere parte di un progetto che è un progetto più largo, che coinvolge più soggetti, ma dentro il quale ognuno può avere il suo protagonismo. Io credo sia molto importante che un'associazione come Confartigianato abbia deciso di investire tanto su questo versante, a fare un progetto, a fare un'analisi della realtà e fare delle proposte, quindi io credo che attraverso la collaborazione si potranno ottenere i migliori risultati.